Noi italiani siamo diventati bravissimi a raccontare la realtà in modo non, come ti posso dire, cioè educando ma non in modo pesante. Abbiamo fatto scuola della scuola del neorealismo e lo stiamo facendo, ci sono dei registi pazzeschi italiani, hai, che ti posso dire, da Pietro Marcello a Minervini, a Rosi, che fanno veramente dei capolavori, sono dei film bellissimi con un significato profondo, con un'attenzione al sociale incredibile e che potrebbero veramente insegnare e aprire le menti di tutti quanti riescono a seguirci magari al cinema invece che alla televisione, che amo, però che ha un altro ruolo. Grazie a tutti.